È arrivato il momento di parlare del bilanciamento del bianco, un argomento di cui mi avete chiesto in molti. Oggi facciamo un contenuto proprio su questo. Andremo a vedere che cos'è il bilanciamento del bianco, come posso utilizzarlo per andare a impostare correttamente la mia macchina e avere quindi delle fotografie che sono già corrette al momento dello scatto. Andremo anche a vedere modi diversi di affrontare l'argomento, quindi diverse filosofie. Andrò a farvi vedere quella che è la mia filosofia, che non è necessariamente quella giusta, ma sicuramente vi potrà offrire un buon punto di partenza. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Oggi andiamo a vedere come mi comporto quando si tratta di regolare il bilanciamento del bianco. Andremo a vedere un po' di opzioni e andremo a cercare di capire che cos'è questa funzione e in che modo usarla. Cercherò di affrontare l'argomento in maniera tutto sommato facile e comprensibile per tutti, motivo per cui vi consiglio di iscrivervi subito al mio canale, così mi fate capire che questo modo di fare divulgazione vi piace, vi interessa. Lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che imparerete qualcosa di interessante. Dunque, partiamo dall'inizio e come detto la prendo in maniera semplice. Che cos'è sto bilanciamento del bianco? Perché dovrei interessarmene? Allora, osservate questa scena. È una scena che mi fa molto gioco, perché in questa scena ci sono delle luci miste. Fateci caso. Abbiamo una luce che illumina me, che è la mia luce principale. E io non vi chiedo di credere a me. Spengo le altre, così ve ne rendete conto. Questa qui è la mia luce principale. È una luce cosiddetta daylight. Per la verità questa è una luce che ha la possibilità di variare la temperatura colore in un range prestabilito. Quindi possiamo andare da 6.000 a 3.600 Kelvin, una roba del genere. Vedremo dopo che cosa sono i Kelvin. Quindi questa è una luce che ha la possibilità di diventare più calda o più fredda, a seconda di quello che le dico io, ovviamente. Ha una manopola, non è che lo fa per i fatti suoi, glielo dico io. In questo momento è impostata a 5.600 Kelvin. Quindi è una temperatura daylight che simula, in qualche maniera, il colore della luce del sole. Per dare un look più naturale possibile. Ovviamente, sapendo che tipo di luce stiamo utilizzando, io ho gioco molto facile sulla mia videocamera perché imposto 5.600 Kelvin, temperatura di bilanciamento del bianco, sulla mia macchina e sono a posto. Che cosa succede quando andiamo a introdurre delle luci di colore diverso? Questa qui è la mia lucetta azzurra che ho utilizzato tempo fa per fare un set a tema a trono di spada. Non so se vi ricordate, uno dei primi poster della serie. Aveva questa luce calda da una parte e fredda dall'altra. La canzone del ghiaccio e del fuoco. Quell'effetto mi era piaciuto, quindi l'ho introdotto in alcuni prodotti che ho realizzato. Ha continuato a piacermi al punto tale che poi l'ho mantenuto in tutti quanti i video. E adesso lo tengo. Perché se io andassi a rimuoverlo avremmo semplicemente una luce chiara da questa parte. È un set molto classico a due luci. Non ho voglia di cambiarlo perché tutto sommato mi piace questo. E quindi lo tengo così e ve lo cuccate così anche voi. Questa non è una luce daylight. Questa è chiaramente una luce con una fortissima dominante azzurra. Andiamo ad aggiungere anche questa lucetta che come potete vedere fa tutto il contrario. Questa è una luce a incandescenza. Anzi in realtà è una luce LED che però simula una luce a incandescenza. Quindi è gialla. Lo vedete molto chiaramente. È una luce che emette un colore molto diverso da quello che abbiamo su quest'altro lato. Dunque è possibile, anzi io ve lo auguro, che nella vostra vita di fotografi e di videomakers è per quello vi troviate ad affrontare situazioni con contesti di illuminazione diversa. È molto divertente quando questo succede. Quindi perché privarsene? Il problema però qual è? Noi dobbiamo dare una coerenza a queste luci. Quindi dobbiamo stabilire che devono avere una gerarchia, che devono avere dei rapporti fra di loro che possibilmente devono essere mantenuti. Ora, quando noi scattiamo col bilanciamento del bianco automatico, la macchina decide da sola, e questo vale per tutte le macchine, che sia uno smartphone, una entry level o una macchina fotonica, la macchina analizzerà la scena, cercherà di capire qual è la dominante cromatica più marcata e andrà a cercare di sopprimerla. Per cui se noi abbiamo una scena dove c'è una luce daylight, lì probabilmente la macchina ci azzecca. È tarata su quello più o meno. Se noi abbiamo una scena con una dominante azzurra, la macchina farà una cosa, cercherà di andare a bilanciarla introducendo del giallo. Viceversa, se abbiamo una scena con una dominante gialla, la macchina cercherà di diminuire quel giallo andando a introdurre dell'azzurro. Come sempre, io non vi chiedo di credere a me. Adesso faremo un esperimento. Io ho impostato il mio control ring sulla mia ottica per il bilanciamento del bianco. Molto bene, così siamo a 8000 Kelvin. Vi rendete conto che non è proprio uguale a prima. Ci sono delle differenze. Ci sono delle differenze che abbiamo introdotto noi per cercare di andare a bilanciare una situazione. Ci siamo riusciti? In questo caso no, perché era già bilanciata prima. Ecco che in questo caso siamo addirittura a 10.000 Kelvin. Io ho una visione limitata di quello che sta succedendo, perché a monitor c'è una lutta applicata e quindi non vedo bene il risultato finale. Lo vedrò solo a monitor, però questo è un risultato estremo. Non dovrebbe essere per niente gradevole una cosa del genere. E adesso facciamo esattamente l'opposto. Adesso siamo a 3700 Kelvin, quindi stiamo andando nella direzione esattamente opposta. Io già qui, già a monitor, vedo che è sgradevole, perché abbiamo introdotto una dominante cromatica sbagliata. Questa è Daylight, è bilanciata, quindi adesso non è più bilanciata. 2500 Kelvin. A questo punto è chiaramente sballatissima, è assolutamente sgradevole, però questo vi dà una buona idea di che cosa può fare il bilanciamento del bianco in macchina. Noi abbiamo la possibilità di portare la nostra immagine molto verso il giallo, mantenerci sul bianco che è in mezzo, oppure andare decisamente verso gli azzurri che sono sul lato opposto. Ora ripristiniamo una normale situazione di decoro, perché è molto disagiante lavorare con le luci sballate in quel modo. Dunque, nel caso in cui abbiamo una luce Daylight, è molto facile ovviamente fare un bilanciamento corretto. Noi sappiamo che una luce Daylight, uno Spotlight, generalmente produce una luce con un colore che si colloca intorno ai 5400-5600 Kelvin e quindi andiamo a impostare quell'unità di misura nel modo corretto. Ma che cosa succede quando non abbiamo una luce di riferimento? Ecco che possono venire in nostro soccorso degli strumenti come questo. Questo qui è il Color Checker Passport di X-Rite, uno strumento secondo me abbastanza essenziale per fare questo tipo di operazioni, perché ci dà una scala di neri e di grigi e ci dà anche due grigi pesati con cui possiamo andare a fare il bilanciamento del bianco perfetto. Cosa significa fare il bilanciamento del bianco con uno strumento come questo? Significa che noi terremo il nostro passport nel punto esatto dove si trova il nostro soggetto, in questo caso dove mi trovo io. Questo cartoncino di grigio riceverà la stessa luce Daylight che arriva sulla mia faccia e questo significa che se io faccio una ripresa, faccio una foto, una ripresa video e poi prendo una misurazione su questo, con il contagocce di Photoshop o di qualche altro strumento che sto utilizzando, quando io vado a impostare il bilanciamento del bianco su questo punto di grigio la mia ripresa viene bilanciata perfettamente, viene bilanciata in post-produzione. Esistono ovviamente anche dei casi in cui noi vogliamo la ripresa corretta già in macchina, non vogliamo andare a fare questo lavoro in post. In quei casi, quello che io faccio di solito è che tengo questo stesso cartoncino nella posizione corretta, mi avvicino quanto più possibile oppure zoom con il mio dispositivo, zoom sull'area interessata, lasciando il bilanciamento del bianco in automatico, vado a scattare una fotografia. A questo punto vedo i valori di bilanciamento del bianco che sono stati impostati, può essere necessario scaricarsi l'immagine su un computer per fare questa operazione, vedo i dati del bilanciamento del bianco che sono stati impostati e quindi so come impostare il mio bilanciamento del bianco con i gradi Kelvin esatti per le riprese successive. Ovviamente è un'operazione un po' macchinosa e non facilissima, c'è anche da dire che dopo un po' che lo fate ci prendete comunque la mano e quindi mettiamo in conto che magari la prima volta che lavoriamo in un determinato ambiente magari possiamo non essere precisissimi, possiamo anche sbagliare qualcosa, perché succede ragazzi, succede, capita di sbagliare. Se stiamo scattando fotografie in RAW non è un grosso problema, perché possiamo comunque sistemare dopo. È comunque una cosa buona non usare il bilanciamento del bianco automatico, vi dico perché per un motivo semplicissimo. In una scena come questa, se io faccio così, vedete che c'è meno blu, il bilanciamento del bianco cambia. Se io invece mi avvicino magari, vado a riempire più parte del frame con la mia faccia che è illuminata da una luce daylight, di nuovo il bilanciamento cambia. Questo che cosa significa? Significa che se usiamo il bilanciamento del bianco automatico, ogni minima variazione all'interno del nostro fotogramma avremo una variazione corrispondente per quanto riguarda il colore. Se dovesse entrare in campo una persona vestita ad azzurro qui, il bilanciamento del bianco cambierebbe drasticamente. Se dovesse entrare in campo una persona vestita di giallo, il bilanciamento del bianco di solito, di nuovo, cambierà radicalmente. E questo è un problema, perché significa che ogni volta che io metto le mani in campo avremo una variazione di bilanciamento del bianco. E anche di esposizione se stiamo lavorando in full automatico. Quindi è questo il problema. Il problema è che se lavoriamo col bilanciamento automatico, poi ci ritroviamo a casa a dover bilanciare manualmente tutte le foto che abbiamo fatto. E oltretutto scattare col bilanciamento automatico ci restituisce una resa diversa per vari ambienti, per varie situazioni e per varie composizioni diverse che abbiamo fatto. Quindi è un problema scattare in quel modo, perché poi ci mette nella condizione di dover fare delle scelte post che magari non vogliamo fare, o che magari potremmo aver già fatto prima e che ci farebbe risparmiare tempo e poi ci darebbe già una resa omogenea togliendoci il problema di dover compiere delle scelte dopo. Ora, non ci resta che andare a vedere fisicamente come si gestisce la temperatura colore sulla nostra macchina, ma prima, come promesso, vi racconto brevemente qual è la mia filosofia nel momento in cui dobbiamo gestire una scena con luci miste. E andremo a vedere caso per caso, perché ci sono delle situazioni diverse. Abbiamo capito che il bilanciamento del bianco serve a dare una resa diversa del colore della nostra scena, il che non significa necessariamente più realistica. Io punto al realismo perché ho una luce daylight che simula la luce del sole, quindi voglio che sia realistica la scena. Ho un blu marcato, ho un giallo marcato, lo faccio apposta. Blu e giallo sono complementari, danno contrasto ulteriore alla mia scena. Quindi io impostando daylight mantengo corretti questi due colori. Se io andassi ad aumentare o a diminuire i miei kelvin potrei spingere troppo i gialli e quindi tirare via i blu oppure il contrario. E non è quello che voglio fare perché questo contrasto è fortemente voluto. Questa normalmente è la mia filosofia nel senso che impostando una temperatura intermedia, un punto di bianco corretto per una luce daylight che di solito è quella giusta, si mantengono corretti anche i rapporti tra le altre luci. Questo cosa vuol dire? Mettiamo sempre daylight e siamo a posto? Assolutamente no. La temperatura colore va impostata a seconda di quello che stiamo facendo. Per esempio, se noi stessimo scattando solo con luce incandescenza sarebbe troppo gialla. A quel punto se noi impostiamo il preset per luce incandescente sulla nostra fotocamera il risultato probabilmente sarà migliore. Viceversa, se noi stiamo scattando con una luce fortemente blu andiamo a mettere dentro un parametro personalizzato per mitigarla un pochino perché altrimenti potrebbe risultare troppo forte, troppo satura fino al punto da diventare sgradevole. Ora, per quanto riguarda la fotografia di eventi, quindi parliamo di concerti, eventi corporate, cerimonie, qualsiasi altra cosa, io normalmente imposto la temperatura colore in maniera tale da avere un punto di bianco corretto. Quindi se sono in interni uso anche tranquillamente il preset per interni, se sono in esterni uso anche tranquillamente il preset per esterni sulla mia fotocamera o videocamera. Non è un grosso problema perché quei preset di solito vanno bene. In presenza di contesti particolari mi riservo di guardare il display, di impostare una temperatura custom, quindi gestendo direttamente i Kelvin, guardando la scena e cercando di ottenere un risultato quanto più coerente possibile con quello che ho veramente davanti ai miei occhi. È un'operazione che all'inizio può risultare noiosa, ma vi assicuro che vi porta via sette secondi. Esistono, come detto, dei contesti in cui invece lascio magari anche alla macchina l'onere di decidere e quello è per esempio il caso della fotografia di interni. Perché? Ve lo spiego io perché. Quando si fa fotografia di interni quasi sempre si ha a che fare con luce fredda che viene dall'esterno, la luce del sole, e luce calda, l'illuminazione interna. Queste due luci venendosi a trovare a contatto generano una fotografia con luce mista. Un po' come quella che state vedendo adesso, però qui il soggetto sono io e io la luce ce l'ho bilanciata, quindi non è un problema. In un contesto di interni invece non è bilanciata perché non possiamo decidere quanta luce entra da fuori e quanta luce artificiale c'è dentro. Quindi dobbiamo prendere la scena così com'è. Ora, normalmente in quel caso io lascio decidere la macchina perché trovo che la macchina faccia di default già un lavoro abbastanza buono e con una minima correzione in post-produzione applicata peraltro solamente alla prima immagine che poi applico a cascata uguale a tutte le altre foto di quella stessa stanza, il risultato è perfetto. Per cui dipende molto dal contesto. Attenzione! Il bilanciamento del bianco può e deve, a mio avviso, essere anche usato in maniera creativa. L'esempio perfetto secondo me sono i film di Harry Potter, fateci caso, quando la situazione è calma, quando sei in un ambiente confortevole la luce è più gialla, mentre quando sei in un ambiente ostile la luce diventa più fredda verso l'azzurro, verso il verde addirittura, quindi molto sgradevole. Sono scelte ovviamente fatte apposta. Sono scelte creative. Poi nel cinema si usa anche colorare le luci, colorare gli ambienti per dare risalto a questa cosa, mentre noi in macchina facciamo quello che possiamo. Però l'idea è che il bilanciamento può e deve essere usato anche in maniera creativa, non solo per bilanciare quello che vediamo. Perché un conto è dire ok, la scena è giusta e la sto vedendo con i miei occhi così com'è nella realtà, però arriva dopo un secondo step che è quello interpretativo. Io ti faccio vedere non quello che ho visto ma quello che voglio farti vedere. E questo è molto importante, ma è uno step che si sviluppa in seguito. A questo punto però andiamo come promesso a vedere come si regola il bilanciamento del bianco in macchina. Molto bene, abbiamo qui la nostra simpatica fotocamera che in questo caso è una Canon EOS R. Allora, noi abbiamo ovviamente la possibilità di andare a modificare la nostra temperatura a colore andando semplicemente sul menu 4. Qui abbiamo White Balance e qui come potete vedere abbiamo tutti i preset di cui parlavamo prima. Abbiamo White Balance automatico, la macchina se ne prenderà cura in autonomia. Abbiamo Daylight, 5200 Kelvin, quindi è un po' diverso da come ve l'avevo detto io, ma questo varia dai diversi dispositivi. Poi abbiamo Shade, 7000 gradi Kelvin, quindi all'ombra ma all'esterno. Poi abbiamo Cloudy, 6000 Kelvin, quindi scena per il nuvoloso. Poi abbiamo Tombsteno, 3200 Kelvin, quindi questo lo impostiamo quando abbiamo una lampadina incandescenza con una luce rossa o gialla. Abbiamo bianco fluorescente, questa qui la usiamo quando siamo in presenza di luci al neon. Abbiamo Flash, questo lo impostiamo quando stiamo scattando col flash. Dopodiché abbiamo Custom, questa è una modalità che serve, io non uso mai. Questa qui è una modalità che se ricordo bene serve perché noi facciamo la foto del nostro riferimento, quindi del nostro cartoncino di grigio o comunque della scena che stiamo facendo e la macchina terrà il parametro che ha letto durante la ripresa di quella foto. Dopodiché abbiamo la mia impostazione preferita che è K, temperatura colore e qui noi possiamo variare a piacimento la nostra temperatura colore. Come potete vedere, normalmente io utilizzo 5600 perché è Daylight, quindi va bene quando sono in esterno ma soprattutto va bene quando sono in presenza di luci miste con una dominante bilanciata. Quindi questa è l'impostazione che io utilizzo di più la maggior parte delle volte. Poi, se questa impostazione non mi piace, entro e la modifico. Attenzione, questa impostazione può essere modificata anche vedendo il monitor, ovviamente, non siamo costretti a farlo da dentro le opzioni, per cui possiamo andare su Set, quindi Queue, la maggior parte delle macchine avrà un quick menu come questo e qui possiamo andare sui nostri gradi Kelvin e di nuovo possiamo andare a dirgli imposta temperatura colore e qui è meglio perché qui vediamo il cambiamento a monitor. Adesso qui non si vede niente però vi assicuro che se avessimo a che fare con una scena vera noi andremo a vedere in tempo reale il cambiamento di temperatura colore che stiamo apportando. Una volta impostata la temperatura colore possiamo dirgli ok e a questo punto siamo pronti a lavorare con la temperatura custom che abbiamo impostato e siamo pronti a scattare le nostre foto o girare i nostri video nella maniera più efficace ed efficiente possibile. Bene ragazzi, ringraziamo la mia assistente Canon EOS R per aver partecipato a questa dimostrazione. Come avete potuto vedere si tratta in realtà di un processo semplice e semplificato dal fatto che noi adesso abbiamo il display. Tenete conto che una volta quando ho cominciato io non c'era il display e quindi tu dovevi saperle le temperature e colore ti dovevi ricordare che la Daylight era 5400, 5200, 5600, più o meno quel range lì te lo dovevi ricordare così come ti dovevi ricordare la luce incandescenza così come ti dovevi ricordare una luce fredda. In realtà sarebbe meglio ricordarselo ancora così non abbiamo tanti dubbi quando dobbiamo andare a fare una regolazione in loco. C'è anche da dire una cosa però i monitor imbrogliano e vi faccio un esempio specifico io sto utilizzando in questo periodo sto usando molto la mia vecchia Canon EOS 5D Mark II una fotocamera che io adoro mi piace da morire ho fatto anche dei video a riguardo anche di recente quindi andatevele a ripescare però c'è un problema il display della 5D è proprio bruttino e questo me ne sono reso conto di recente paragonandolo a dei monitor più recenti come questo per esempio bruttino perché non perché non mi faccia vedere quello che ho fatto io lo vedo quello che ho fatto però il display della 5D è molto falsato per quanto riguarda i colori per cui io scatto guardo a display e mi dà una sensazione sbagliata del colore che ho catturato in particolare sul mio modello magari qualcuno mi potrà dire no invece il mio funziona è un problema del tuo ci sta può succedere sul mio modello io vedo un'immagine molto più virata all'azzurro e quindi quando io la guardo faccio magari uno scatto di prova oppure comincio già a fare una serie di scatti poi dopo un po' mi casca l'occhio e dico però mi sembra troppo azzurro allora che cosa faccio modifico il bilanciamento del bianco per avere un feeling corretto a display quel feeling corretto si rivela poi essere sbagliato quando torno a casa perché il mio monitor è falsato e mi fa vedere più azzurro bisogna conoscere la propria strumentazione e sapere a questo punto io dopo uno shooting sbagliato passatemi il termine a questo punto io so che se avevo impostato faccio per dire 5600 Kelvin e mi sembrava sbagliato in macchine quindi ho modificato il parametro e poi tornato a casa scopro invece che il parametro era giusto la prossima volta mi fiderò del parametro mi fiderò del numero del valore numerico che vedo e mi fiderò meno del mio display è per questo che è importante conoscere un minimo i numeri perché io so che valore numerico ho impostato sulla mia macchina e di conseguenza so se era giusta per quel tipo di scena so se era giusta per una scena daylight so se era giusta per una scena indoor con luce al tombstaino so se era giusta per una luce al neon me lo ricordo e quindi se il mio display mi dà un valore falsato dico vabbè però io tanto so qual è il valore giusto imposto il valore giusto poi più o meno ragazzi perché è importante fare questo procedimento nella maniera migliore possibile però se abbiamo sbagliato qualcosa di poco si sistema in post io non vi sto a dire che deve essere corretto in macchina se no vi decapito non è questo il punto deve essere corretto in macchina quanto più possibile perché è semplicemente sciatto non farlo cioè girare tutto sbagliato e poi tornare a casa e dire ok adesso lo sistemo tutto e mi faccio un lavoro della madonna perché ho sbagliato tutto in macchina è lavorare in maniera sciatta il risultato sarà peggiore lavorando così mentre se lo facciamo bene subito potremmo avere già il risultato giusto senza nemmeno doverlo processare e questo è un bel vantaggio semplicemente sapendo queste due cosine che vi ho detto in questo video infinito mi rendo conto che è venuto fuori molto lungo semplicemente sapendo queste due cosine riusciamo ad avere il risultato già pronto in macchina senza doverlo processare senza dover fare cento cose di post produzione in più e soprattutto abbiamo una coerenza perché tutte le cose che facciamo avranno lo stesso colore invece di cambiare continuamente in funzione dell'inquadratura che abbiamo fatto quindi per questo è importante è questo che ci professionalizza un po' di più ci fa lavorare nel modo migliore poi se abbiamo sbagliato a quel punto ci accogliamo la post produzione e facciamo la correzione su tutti quanti i nostri file e vabbè si può anche fare non muore nessuno succede capita anche a me si fa però è seccante perché io so che potevo evitarmelo quel lavoro in più semplicemente in 5 minuti ma che dico 5 minuti in 5 secondi impostando correttamente il bilanciamento in macchina e guardate che se facciamo una foto si fa presto a dire tanto la correggo dopo ma se come me ne avete fatte 2000 magari poi torna a casa e processa 2000 foto oppure hai fatto una giornata di girato con l'impostazione sbagliata processati una giornata di girato solamente per ripristinare il corretto valore di bilanciamento del bianco è una seccatura immane e quindi secondo me è meglio metterci una pezza da subito detto questo amici non voglio dilungarmi troppo su questo contenuto vi chiedo a questo punto lasciatemi sapere nei commenti se questo video vi è stato utile se avete imparato qualcosa sul bilanciamento del bianco e su come si utilizza lasciatemi anche sapere se secondo voi ho dimenticato qualcosa di essenziale che potrei farvi vedere in un prossimo capitolo questo è un primo video sul bilanciamento del bianco e il metodo che io utilizzo per andare a impostare questo parametro però nulla nega che ci possano essere altri capitoli se l'argomento vi interessa e se avrò dimenticato qualcosa che mi segnalerete voi nei commenti vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché quando mi segnalate qualcosa io di solito rispondo con uno shorts se vi iscrivete subito non ve lo perdete a questo punto io vi saluto vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video vi ringrazio come sempre vi ringrazio come sempre a questo punto vi ringrazio come sempre vi ringrazio come sempre